Drago Freebooter! Un canale illegale! Ma questo video? E' bello! C'è un tipo di artista, con le shadow e le cose... Artistic nude! E' bello comunque! Anche tu, Breeze, lo faresti in artista? Si, lo farei! Nudo artistico si, è bello comunque! Per un magazine, se io! Perchè io sto facendo un quadro... Mi servirebbero delle ragazze che fanno... No, mi servirebbero un quadro... Io sono un pittoria, ho fatto anche scuola di pittoria! Io sto male, non so... Vuoi un po' di acqua? Si... No, posso andare a prendere un po' d'acqua? Si, certo! E' finita! Però c'è un'altra nel frigo! Ma è possibile che mi sia entrato un moscelino? No, è impossibile! E si, come si riuscite nel dark humor... Ah si si, nel dark humor... No, 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 no! 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 No, no! Oh, VAR! Do you know what is VAR? 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 No! No! No, no! La VAR! Replay! No, no, no! Ma... hanno chiamato la barre, quindi il pubblico è molto funzionario.